Siamo qui per lo speciale di Pasqua Allora non ho com'è, non aveva niente Allora, ho pensato a me Abbiamo preso un uomo di Star Wars Perché ce n'erano altri, ma King Però non mi interessavano E non c'era quello di Spider-Man C'era, ma non faceva sempre quelle cose Allora, adesso lo apriamo Togliamo questo 14 euro di pure bontà C'era scritto 14 euro di 90 Ah no, ma se l'ho da girare, l'ho già aperto Ormai sono deficiente Guardate come è Dai, fermo Allora, staccalo tutto Allora, ovviamente, senza così Baccato di lato Prendiamo il cioccolato insieme E' una sorpresa Dove si ingerga Cos'è? Yoda E' bello E' bello E' bello E' bello Grazie a tutti.